buongiorno pronti per incominciare questa settimana colazione e si parte senza distruggere però tutto allora io sono già pronta in modalità studio in posizione pronti partenza via dai oggi è un bel programmino da rispettare voglio fare due capitoli del libro e per il momento sto leggendo un po confrontandomi con i riassunti e il libro e poi oggi voglio schematizzare un po sicuramente i due capitoli che ho letto oggi più devo tornare indietro recuperare gli altri perché non li ho ancora schematizzati stavo un po leggendo per capire un po cosa mi aspettasse e possono abbastanza fiduciosa è tantissima roba però dai ce la possiamo fare in attesa di ricevere il risultato di statistica e nella speranza di non dover ridare l'esame incrociamo le dita sono molto soddisfatta di come è andata la mattinata adesso pranzato ginsenghino e mi riposo una mezz'oretta per poi ripartire a studiare penso che guarderò un mezzo episodio di the good doctor ormai sono presa benissimo allora oggi pomeriggio già sto rendendo meno che la mattina sono quasi anzi sono le quattro e ho finito di leggere il secondo capitolo di oggi e devo iniziare a schematizzare ma non ne ho voglia e quindi piccola merendina per recuperare qualche energia e mi metto sotto spero di fare quanto prima così poi posso venire a salutare mia nipote che tra poco arriva dal nido e non la vedo esattamente da più di una settimana anche di più quindi non vedo l'ora di vederlo allora faccio una pausetta dallo studio vado a vedere quella pesta di mia nipote cosa combina quella coperta forza vediamo qua che percorso che creiamo bello di percorso che stai cresce stai facendo allora io speravo di poi dopo aver giocato un po' con mia nipote di poter tornare sui libri per caso che mi ho tenuto a giocare fino alle 7 e mezza ma letteralmente giocare senza fermarmi un attimo sto morendo di caldo me ne ha fatte di ogni ci siamo divertite un sacco ogni volta tira fuori di quelle perle che mi fa spaccare non so neanche da dove le tiri fuori cioè non mi capacito di questa cosa e è troppo bella mamma mia poi oggi era proprio coccolosa perché non mi vedeva da tanto mi sono molto contenta di aver passato del tempo con lei e e niente quindi adesso fare una doccia e poi mi preparerò qualcosa da mangiare se riesco studio un pochettino ancora però 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 in realtà volevo darvi una notizia sono molto contenta perché come mi avevo vi avevo anticipato qualche settimana fa qualche vlog fa con Dani avevamo valutato un mini viaggettino da fare a settembre e avevamo visto che tra i voli che costavano di meno c'era Praga io volevo visitarla da un sacco non ero solo sicura se il in realtà il periodo fosse l'ideale però ho letto recensioni molto positive su quel periodo e quindi ho detto vabbè andiamo quella è l'unica metà che costa poco le altre sono già tutti i prezzi fuori da fuori di testa ho detto vabbè facciamoci due tre giorni e ok però nel mentre cosa è successo Dani doveva finire il tirocino io avevo gli esami insomma un po prese eccetera gli avevo anche detto Dani prendiamo subito i voli perché poi va a finire che ce li perdiamo tra una cosa l'altra a me è venuta un'altra splendida idea ho detto ma perché non fare tipo una sorta di interrail quindi ci attacchiamo Praga Vienna perché noi dovevamo andare a Vienna un sacco di tempo fa poi è partito il covid avevamo già il volo non siamo riusciti ad andare tra l'altro mi sembra che avevamo prenotato anche un altro volo che c'era saltato col covid se non sbaglio era Bucharest e è saltato pure quello vabbè comunque Vienna ce l'ho qua volevo andarcela troppo e ho detto ma sì ci facciamo tipo Praga Vienna Budapest non lo so vediamo fatto sa che passano i giorni passano i giorni ho detto Dani no guarda che forse non so se ci conviene anche a livello di costo poi tecnicamente a settembre devo capire un attimino con Padova se sono là sono qui insomma un po di cose mentre passavano i giorni e ovviamente i voli stavano cambiando completamente i prezzi e fatto sa che l'altro no ieri ieri mi sono messa a guardare e faccio ecco come non detto il volo che avevamo selezionato perché noi l'avevamo anche selezionato dovevamo solo prenderlo cioè pagarlo non c'era più o meglio c'era solo il ritorno e l'andata non c'era ma noi volevamo partire un po presto così comunque ti sfruttavi la giornata vabbè niente alla fine ieri gli ho tal danni dobbiamo deciderci perché sennò va a finire che ci perdiamo anche questo vabbè per farvela in breve se no vi dilungo sempre in chiacchiere abbiamo preso i voli poco poco fa abbiamo abbiamo scelto i voli alla fine facciamo tre giorni però sostanzialmente un giorno partiamo al mattino alle 9 e 20 quindi arriveremo là intorno alle 11 meno qualcosa quindi un po la mattinata se ne va però il ritorno è tipo tardissimo alle 9 e mezza di sera quindi abbiamo la giornata piena viaggieremo solo con uno zainetto tanto danni poverino è costretto poi lasciare lo zaino vuoto perché ci devo mettere roba io e no però l'ultima volta che eravamo andati a malaga e a malaga a palma in realtà sono stati bravissimi cioè nonostante avevamo gli asciugamani da spiaggia con uno zainetto abbiamo fatto stare tutto per tre giorni e in più danni aveva comprato la due spadriglias quindi cioè sono stati bravi c'era stato tutto e quindi appunto poi io avevo anche i vestiti della sera lunghi e stivi cioè eppure siamo stati bravissimi quindi speriamo di essere altrettanto bravi per praga anche perché magari voglio fare qualche acquistino e niente quindi sono troppo felice volevo comunicarvi questa destinazione però solo una volta che avessimo comprato effettivamente i biglietti mica che poi saltava tutto quindi ufficialmente andremo a praga a settembre non vedo l'ora e adesso stiamo guardando un po gli hotel ne avevamo già selezionati qualcuno molto carini e però io voglio stare budget molto basso perché poi preferisco spenderla facendo di tutto soprattutto sul cibo noi siamo amanti del cibo quindi dobbiamo andarla a testare fare e quindi questo è quanto volevo comunicarvi questa mega notiziona con voi sono troppo felice e perché poi io proprio la necessità di viaggiare non sto viaggiando per niente quindi per me è proprio super felice ecco e tra l'altro stamattina Dani tipo ovviamente lui orari folli cioè si svegliare 5 per andare in palestra poi studia tutto il giorno io non so come faccia comunque mi manda tipo i voli stamattina e mi fa potremmo andare anche a copenaghen faccio io vorrei tanto andare peccato che un hotel di una notte di cosa tipo 300 euro quindi magari proprio avanti ecco insomma che dici bene insomma adesso che vi ho dato questa bella notizia fatemi sapere mi raccomando nei commenti se voi ci siete già stati come l'avete trovata mi raccomando non ditemi che non vi è piaciuta perché io ho alte aspettative e fatemi sapere se volete consigliarmi qualche posticino dove andare cosa fare io stracontenta quindi mi raccomando fatemelo sapere nei commenti ci tengo molto e basta questo è quanto io ora vado a farmi una doccia insomma prepararmi un attimo cena e vediamo cosa riesco a combinare ok ho fatto tutto tra cui tisani pronta come ogni sera ho prenotato anche qualche hotel tanto c'è la cancellazione gratuita almeno ho iniziato a riservarne qualcuno e poi con calma i prossimi giorni insomma quando ho un po voglia controllo se si trovo qualcos'altro e niente quindi sono molto contenta di questo programmino e sembrerebbe anche che non andiamo a spendere chissà che poi non ho idea di là quanto costi la vita non penso spero non tantissimo e quindi niente si è fatto tardi sono le 9 io sono cotta non voglia di mettermi a studiare ancora quindi mi sa che ciao nello studio mi guarderò un po della mia serie tv che oggi non ho avuto modo di guardarlo alla fine e mi rilasso un po vado a letto presto così domani si riparte per cui come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi mi raccomando fatemi sapere nei commenti che sono curiosa se avete già visitato questa città quali sono magari i vostri programmi magari visiterete altre città europee fatemelo sapere che io per i viaggi impazzisco come sempre vi lascio anche i miei social se vi va di fare un giro e poi che dire se ancora non mi siete iscritti al mio canale è arrivato il momento di farlo altrimenti vi perderete altri contenuti noi come sempre ci vediamo domani ciao